ciao ragazzi ben ritrovati oggi impareremo un brano di vincent humans dal titolo te per due t4 tu ma prima di andare avanti vi ricordo di mettere un like di supporto naturalmente di cliccare sulla campanella e di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto prima però vi ricordo che il brano che andremo ad ascoltare e di imparare insieme è sviluppato in quattro chorus il primo sarà l'esposizione tematica il secondo il terzo sarà dedicato e saranno dedicati per l'improvvisazione e il quarto chorus c'è la ripresa del tema finale intanto vi auguro buon divertimento e vi aspetto sempre anche sulle mie naturalmente dirette dal vivo ciao e a presto 1 2 3 4 2 love a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.